Vi ricordate l'ultima scena di Breaking Dawn parte 1? Bella ha preso i nuovi occhi da vampira, rossi come il sangue. La trasformazione è avvenuta, ma Bella deve imparare a comportarsi come un'umana, nonostante ora sia un immortale. Saranno proprio i Kallen a insegnarli come fingersi normale davanti a Charlie. Lenti a contatto, muoversi lentamente, sbatterle ciglia, non stare troppo dritta e trattenere il respiro. Come tutti i neonati vampiri, Bella è fortissima. In una sfida a braccio di ferro con Emmett, il più muscoloso dei Kallen, Bella dimostra la sua potenza battendolo con facilità. L'amore tra Edward e Bella ha finalmente trovato la giusta dimensione, l'eternità. Dolci carezze, baci appassionati, sguardi intimi e complici lasciano spazio a momenti di estrema tenerezza con la loro piccola Renesme, il frutto del loro estremo amore. Renesme è una bambina bellissima, dolce e davvero speciale. Metaumana e metavampira cresce rapidamente conquistando il cuore di tutte le persone alle vicine, specialmente quello di Jacob Black, disposto a tutto per lei. Ma non tutti vedono Renesme per quello che è. Irina, la cugina dei Kallen, vedendola pensa che sia una bambina immortale e corre dai volturi a denunciare il crimine compiuto, in quanto per la legge dei vampiri è vietato trasformare un bambino appena nato in un vampiro. La reazione dei volturi è immediata e preparano un vero e proprio esercito oscuro, composto da vampiri potentissimi, per attaccare i Kallen. Alice vede nel futuro l'attacco dei volturi. I Kallen, pronti a tutto per difendere la piccola Renesme, chiamano a raccolta i loro amici da tutto il mondo. Dall'Irlanda, dall'Amazzonia fino all'Egitto, arrivano vampiri pronti a schierarsi al loro fianco per combattere in nome della verità. Nel loro esercito non mancano i lupi guidati da Jacob, che a causa dell'imprinting non può vivere senza Renesme. Volturi da una parte, esercito di Kallen dall'altra, preparatevi ad assistere ad una battaglia epica e sensazionale che vi lascerà fino all'ultimo col fiato sospeso. Breaking Dawn Parte 2 è ricco di colpi di scene ed effetti speciali. Salti nel vuoto e incredibili acrobazie si alterano momenti familiari di estrema dolcezza e grande romanticismo, che rendono il film la perfetta ed emozionante conclusione di una saga che per più di quattro anni ha appassionato e commosso milioni di fan in tutto il mondo. Per Bella ed Edward l'eternità insieme è appena iniziata, siamo certi che i loro nomi resteranno per sempre impressi nel nostro cuore.